Buongiorno a tutti, sono Giulio Luvisi, sono il responsabile dell'offerta Intelligent Automation in Havana d'Italy. L'offerta Intelligent Automation coniuga le soluzioni di Robotic Process Automation e dell'Artificial Intelligence. La sfida che i nostri clienti cercano di risolvere mediante l'introduzione di intelligenza artificiale, soprattutto quella legata al linguaggio, è quella di cercare di estrarre delle informazioni a valore e conoscenza dei dati, sia essi strutturati che non strutturati. Di conseguenza quindi i nostri clienti, i principali casi di uso che chiedono sono l'automazione intelligente dei processi, la capacità di poter estrarre informazioni dei dati e quindi comprendere il significato, gli assistenti virtuali e l'estrazione informazioni e analisi di mercato. Lavoriamo con clienti che già utilizzano soluzioni di NLP ma ovviamente non l'hanno ancora scalata a livello enterprise e qui Havana diventa un fattore abilitante per loro perché li supporta nella crescita e nell'adozione a larga scala in tutta l'azienda. Ovviamente lavoriamo anche con clienti che non hanno ancora iniziato questo percorso, tipicamente li suggeriamo, li portiamo alla scelta della migliore soluzione tecnologica e soprattutto li assistiamo poi nelle fasi di governance e di adozione della tecnologia scelta. I principali vantaggi che i nostri clienti si aspettano di avere mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata al linguaggio sono i seguenti. Aumento della produttività maggiore del 50%, ottimizzando le risorse in uso e aumentando i prodotti in output. Miglioramento dell'efficienza maggiore del 30%, miglioramento dell'accuratezza maggiore del 40%. Abbiamo scelto di collaborare con Esperte AI per diversi motivi. La prima è perché la piattaforma Esperte AI, mediante la loro conoscenza della lingua italiana e mediante le loro tecnologie di knowledge graph, consentono di replicare in modo semplice l'abilità umana di riconoscere i testi e l'informazione all'interno dei testi. Un ulteriore elemento differenziante è l'expermione AI, ossia la capacità di poter capire come Esperte AI ragiona nel riconoscere i concetti all'interno di un testo. Il nostro tema chiave è l'apertura della piattaforma. La piattaforma consente di integrare tra di loro diverse soluzioni, quale ad esempio Esperte AI e soluzioni di Microsoft Azure. Riteniamo che Amalad sia il sistema integrator che può aiutare le aziende nell'adozione di tali tecnologie. Sono molto felice di collaborare ogni giorno con Esperte AI nell'individuare soluzioni innovative per i nostri clienti. Grazie a tutti.